Un nuovo rinforzo per la scuderia portieri del Novara Calcio, diamo il benvenuto ad Andrea Tozzo a nome del Novara Calcio e di Novara Channel gli chiediamo le prime impressioni dopo questi primissimi giorni di lavoro qui agli ordini di Mr. Cataldi Intanto grazie per il benvenuto, le impressioni sono state subito positive appena arrivato qua a Novarello per la struttura che c'è appunto il Novara e anche per la squadra che c'è La curiosità magari per un giocatore può essere quella di calarsi in un ambiente nuovo che potenzialmente poteva risultare un pochino demoralizzato dopo la retrocessione invece ci sembra di vedere un entusiasmo quasi contagioso possiamo riscontrare da parte dei giocatori, tu si trovi d'accordo con noi? Sì, ho trovato subito un gruppo affiatato e molto carico e lo vedo bene Per quanto riguarda la tua carriera, tu hai cominciato abbastanza giovane a giocare a calcio sempre nelle giovanili del Verona, poi ti sei spostato un po' a Fiorentina, Sampdoria poi Latina passando per Portogruaro, insomma un pochino la tua esperienza come portiere? Sì, è stata una gravetta abbastanza movimentata appunto partendo dalle giovanili del Verona fino all'età di 16 anni, poi un anno la primavera a Fiorentina poi sono tornato a Verona che mi ha girato la Sampdoria passando appunto per Portogruaro l'anno in C e metà anno l'anno scorso Latina Ecco, in tutti questi anni hai avuto modo di fare tanta esperienza avendo però magari un punto di riferimento, un portiere, un modello da seguire? Beh, mi piace molto Andanovic perché appunto è uno dei migliori portieri quindi si cerca sempre di imparare un po' da tutti anche